Ciao, sono Mirko Pallera, direttore responsabile e cofondatore di Ninja Marketing insieme ad Alex Giordano. Ninja Marketing è oggi il primo sito di innovazione, tecnologia, marketing, social media in Italia. Create nasce dall'esigenza di trovare una formula, un modello di progettazione per realizzare, progettare delle idee contagiosi. Come vedete dalla copertina c'è un piccolo bambino con un cappellino da guerriero ninja, quindi rappresenta un po' il nuovo comunicatore, la nuova generazione di comunicatori che hanno deciso attraverso il loro lavoro di cambiare il mondo. C sta per catarsi, R per riusabilità, E per emozioni, A per archetipi, T per tensione e E per elevazione. Queste sono le parole che compongono la formula. Nel collegamento con gli altri utilizziamo per esempio i video virali delle aziende per trasmettere un'emozione. E quindi postiamo un video che ci piace, una notizia, una citazione, una foto. E questa azione di condividere permette di affermare la nostra identità insieme agli altri e di condividere un'emozione. La cosa interessante è che oggi la creatività più bella, più innovativa nasce in rete e poi le agenzie spesso copiano. Quadrando con l'iPhone i loghetti ninja che tu vedi al lato del libro, potrai vedere direttamente i contenuti. Quindi lo spot non è solo raccontato, lo puoi vedere direttamente, quindi farti un po' un'idea tu. Le case history che mi piacciono particolarmente sono state quelle di Old Spice. Un altro che mi piace molto è The Force. Ce ne sono tantissimi, sono molto belli. Spesso utilizzano i gattini per esempio, perché in realtà i gattini rappresentano e manifestano un archetipo di esperienze infantili, di quando eravamo piccoli, di quando il mondo ancora era puro, bello, incontaminato ed eravamo bambini. Per questo è così forte in noi. Ci riporta a quelle sensazioni, a quel mondo possibile in cui effettivamente tutto era giocoso e possibile. Gli amici di Cicco. B-ninja.